Ecco qua il ristorante cambogiano, siamo al rustico del rustici, qua fuori all'aperto, là in fondo non so se vedete mi stanno preparando il piatto per me, stanno vedendo un po' di brodaglia dentro però, la vedi anche quello che sta sputtando dentro, guarda il sapore giusto, è un pezzo di gnocchi comunque, ah si 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 guarda, la cucina è fuori, qui diciamo, ah bellissimo così, mi piace, si si si, bisogna essere così, dai 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 guardate un po' in giro, prendilo, in giro adesso vi metto il piano, giro giro qua e così vi faccio a farmi dire, oh guardate l'artista, che bello che bello l'artista, è proprio matto così, perché adesso non l'hanno ancora visto bene, ma mentre anche adesso poi arrivano tanti dei bambini, ci sono quelli che piangono e quelli che ridono, sopra?